Ok ragazzi, è ufficiale, gli ucraini hanno la capacità di colpire in profondità nel territorio russo e lo hanno ampiamente dimostrato distruggendo 4 Ilyushin 76 all'aeroporto di Pskov Questo attacco è stato ampiamente pubblicizzato sui mass media e anche sui social media al punto che recentemente è stata pubblicata anche la registrazione che ci mostra come un drone sia riuscito a colpire esattamente il serbatoio degli Ilyushin innescando dapprima una piccola esplosione e subito dopo un voluminoso incendio che culminerà nella distruzione dell'aeromobile stesso Benché i russi abbiano nel loro arsenale, anzi nei loro hangar, letteralmente centinaia e centinaia di Ilyushin 76 che alla fine della fiera sono dei semplici aeroplani da trasporto strategico questo attacco li ha impressionati notevolmente e li ha fatti correre ai ripari I ripari in questione sono dei copertoni che i soldati russi hanno iniziato a mettere sopra le ali degli aerei per coprire gli aeromobili Per quanto ne sappiamo i copertoni sono infiammabili ma i russi probabilmente li hanno sistemati sopra gli aeroplani perché sperano o di confondere i sensori dei droni o in alternativa confidano sul fatto che i copertoni avendo una certa elasticità potranno far rimbalzare il drone e farlo esplodere a mezz'aria senza danneggiare i preziosi aerei Sì, è una logica un pochino da cartone animato in stile Looney Tunes ma non è questo il punto Il punto è un altro Quando capisci di essere vulnerabile agli attacchi del nemico che cosa potrà mai andare storto? Incredibilmente di questa vicenda parla anche la propaganda russa e sempre più incredibilmente per rispondere alle domande del propagandista di turno è stato invitato un esperto vero e non un politico Vediamo insieme la clip Parliamo di attacchi con i droni Sono riusciti a colpire l'area di Mosca E sono arrivati perfino a Pskov Voi siete un esperto di guerra e una delle persone più importanti in quest'area Potete spiegare come fanno gli ucraini a raggiungere questi bersagli, queste destinazioni? Quando è iniziata l'operazione militare speciale Sono stati posizionati dei nuovi sistemi antiaerei attorno a Mosca E per proteggere le regioni di Briansk, Belgorod, Kursk e la Crimea purtroppo abbiamo dei vuoti E cioè degli spazi che non sono coperti Beh, ma se noi siamo al corrente che abbiamo degli spazi non coperti dei buchi nella sicurezza, perché non li chiudiamo? Il problema è come possiamo chiudirli? Dovremmo infatti avere abbastanza sistemi di difesa antiaerea da piazzare Ma non li abbiamo Al giorno d'oggi sono particolarmente costosi Serve molto tempo per costruirli Non siamo più ai tempi dell'Unione Sovietica Quando potevamo coprire i confini con sistemi antiaerei in sei mesi All'epoca sarebbe stata un'operazione economica e perfettamente alla nostra portata Tradotto in termini reali, ora non lo è più E tradotto in parole povere, per i russi sono bippi doppiamente amari Perché doppiamente? In primo luogo perché i russi non sono in grado di fermare le reti clandestine di sabotatori ucraini Che per l'appunto penetrano nel loro territorio Fino a qualche giorno fa si vociferava di droni in grado di coprire distanze Ma la realtà è che questi lavori vengono svolti con uomini E questa modalità di intervento non solo permette di raggiungere dei risultati decisamente più efficaci Rispetto al lancio di droni o missili a centinaia o migliaia di chilometri di distanza Ma sono anche decisamente più economici I famosi droni di cartone costano nella loro versione migliore full optional poche migliaia di euro Mentre viceversa un drone comune costa qualche decina di migliaia di euro Decisamente poca roba rispetto alle centinaia di migliaia di euro quando ti va bene O al milione o alle milionate di euro quando ti va male Del costo dei droni più seri o dei missili E tutte queste cose ci sono state orgogliosamente spiegate da Budanov Il responsabile dei servizi segreti ucraini Il quale stando peraltro alle fonti russe dovrebbe essere finito sottoterra almeno 3-4 volte E invece stranamente è ancora lì a comandare i servizi segreti ucraini E a vantarsi delle loro operazioni speciali o clandestine Anche se in realtà detto fra noi penetrare in Russia non è esattamente così difficile E non richiede necessariamente degli emuli di 007 In teoria infatti ti basta fare un biglietto per il pulmino Stranamente infatti le frontiere fra Russia e Ucraina non sono chiuse per i civili E i civili ucraini possono andare in Russia principalmente per lavoro o per fare visita ai parenti Quindi ripeto in teoria è facilissimo far arrivare in territorio russo i tuoi agenti Un pochino più complicato è fornirgli i droni e le armi Ma questa è un'altra storia Vediamo invece come i russi stanno proteggendo Mosca da una parte e San Pietroburgo dall'altra Qui possiamo vedere gli agenti con dei fucilazzi neutralizza droni Non fatevi ingannare sono delle grandissime antenne E qui invece potete vedere l'artiglieria pesante vera e propria I Panzir schierati a difesa della città Come potete vedere sono anche mimetizzati Quindi nessun nemico potrà mai notarli in cima a questa collina artificiale Oppure sopra questa fantastica torre a qualche decina di metri d'altezza Ora io capisco perfettamente che un'unità Panzir funziona meglio se posta in posizione sopraelevata D'altronde ha un radar incorporato Quindi più sei in alto meglio è Ma come ti viene in mente di metterli in piena vista sopra delle collinette artificiali O addirittura sopra una torre costruita apposta per ospitare l'unità Ormai dovresti saperlo che i droni sono in grado di fare sportivamente qualcosa del genere E se riescono a colpire una piccola telecamera montata sopra una torre Figurati se mancano l'unità lanciarazzi del tuo Panzir Ti mandano sportivamente in fumo 15 milioni di apparecchiature E per di più come ha spiegato l'esperto si tratta di apparecchiature rare e non facilmente rimpiazzabili Poi certo bisogna dire che i Panzir oltre a essere rari e difficilmente rimpiazzabili Sono anche virtualmente inutili Pochi sanno infatti che il generale Haftar ne ha acquistati alcuni esemplari proprio dalla Russia Ma non hanno funzionato benissimo La metà è stata letteralmente distrutta dai droni E l'altra metà è stata catturata dall'esercito avversario E pure esposta al pubblico Passiamo poi a descrivere un episodio verificatosi sul Dnipro All'altezza di un allevamento di pesci Qui abbiamo la possibilità di vedere dei ricognitori slash sabotatori russi Arrivare sulla riva del Dnipro grazie a una piccola imbarcazione Come potete notare stanno facendo cose Prima di essere brutalmente interrotti da un missile lanciato da un drone Baraktar 2 Per via della politica di Youtube non posso mostrarvi la nave che defragra Accontentatevi di questo singolo fotogramma In ogni caso sulle rive del Dnipro come facilmente intuibile Gli ucraini certamente non ridono ma i russi piangono In questa azione infatti sono stati neutralizzati otto soldati russi Alcuni purtroppo per loro finiranno sottoterra Altri in ospedale per qualche tempo Sono poi state rilevate anche esplosioni in due città occupate dai russi Sulla costa una delle quali è Verdiansk Pare inoltre che gli ucraini abbiano tentato di colpire nuovamente il ponte di Crimea Ma questa volta senza successo Fonti ucraine affermano infatti che il bersaglio non era il ponte in sé per sé Ma almeno una delle navi che lo stanno sorvegliando Lo scopo dell'attacco era infatti quello di saggiare le difese e possibilmente neutralizzarne Come tutti sappiamo la controoffensiva sta procedendo per lo più nella formula della guerra d'attrito Più che sotto forma di avanzata È un dato di fatto che gli ucraini fino ad oggi stanno cercando di distruggere la catena logistica avversaria Per poter indebolire i soldati al fronte e poi avanzare E naturalmente stanno facendo tutto questo senza copertura aerea Utilizzando principalmente gli HIMARS e altri tipi di drone E i russi stanno imparando dai propri errori Perché hanno preso l'abitudine di spostare i centri logistici a oltre i 70-80 km dal fronte Che sostanzialmente equivalgono al raggio d'azione degli HIMARS Tuttavia questo potrebbe non essere sufficiente per salvare i camion, le munizioni e i carburanti dei russi Perché entro qualche giorno o un mese al massimo Gli ucraini dovrebbero ricevere un nuovo sistema Un sistema chiamato lanciatore terrestre per bombe di piccolo diametro In pratica spendendo qualche decina di migliaia di dollari Prendi una bomba principalmente da aereo e la trasformi in un missile Con un raggio d'azione di circa 150 km contro i 70-80 dei lanciatori HIMARS E lo so, fa brutto doverlo dire Ma queste bombe sono particolarmente economiche ed efficaci Sì, lo so, gli ucraini chiedono da una vita agli ATAKMS Cioè dei missilazzi grandi, grossi, brutti e cattivi Che hanno un raggio d'azione molto più ampio Ma questi missili, oltre ad essere costosissimi Perché ognuno di loro costa letteralmente almeno un milione di dollari Sono anche scomodi da usare e facili da intercettare per le unità russe Perché per l'appunto sono sì brutti e cattivi Ma sono anche grossi Mentre invece questo nuovo tipo di bomba non solo costa molto meno Ma ti permette comunque di recapitare a domicilio circa 100 kg di esplosivo E nulla ti impedisce di lanciarne ben più di una contemporaneamente Per ottenere lo stesso effetto di struttura Senza contare il fatto che, a differenza di quanto avviene per i razzi degli HIMARS Queste bombe sono diffusissime e i magazzini della NATO Ne sono letteralmente strani Quindi se gli ucraini ne lanciano qualcuna Non è esattamente la fine del mondo Calcolate inoltre che il raggio d'azione di queste armi È più che dignitoso E che in pratica gli ucraini Tramite questi lanciatori di bomba a piccolo diametro Potrebbero colpire qualsiasi territorio occupato Eccezione fatta per la parte mediridionale della Crimea A queste bombe si affiancheranno poi forniture di missili AMRAM E cioè missili antiaerei aria aria Il vantaggio di questi AMRAM è per l'appunto il raggio d'azione relativamente esteso Ne puoi sparare uno da circa 160 km di distanza E questo andrà dritto contro l'aereo bersaglio Questi missili sono utilissimi perché permetteranno agli ucraini Di bersagliare unità aeree senza dover entrare nell'area d'azione della contraerea russa Veniamo poi alla politica internazionale I polacchi non hanno apprezzato in particolar modo Le parole che il Papa ha rivolto alla sua comunità russa E in particolare non hanno apprezzato l'elogio a Pietro il Grande e a Caterina II Perché certamente questi regnanti hanno aiutato la Russia Ma erano dei regnanti standard dell'epoca Eliminavano fisicamente gli oppositori E tentavano di conquistare territori Portando avanti delle campagne militari sanguinosissime Se l'argomento vi interessa potremmo dedicare un video apposta Fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto In ogni caso i cittadini polacchi non sono i più sfortunati Oggi infatti in Russia acquistando la Pravda Ti regalano in omaggio un fantastico calendario Il calendario che qualsiasi maschio alfa russo vorrebbe appendere nella sua cameretta E no, non sto assolutamente parlando di Play Boschi Quella è roba per femminucce arcobaleno occidentali I veri maschi alfa russi vogliono il calendario di Vladimir Putin Eccolo qui 12 scatti impareggiabili per un presidente impareggiabili Con altrettanti frasi motivazionali Uè raga, non guardatemi con quella faccia Poteva andarvi molto peggio Ringraziate che ve la cavate con un calendario e 12 frasi motivazionali Negli anni 30 in Germania ti costringevano ad acquistare il libro del presidente E dovevi pure studiartelo Ed era un mattone Passiamo ora dalla Russia all'Ucraina Il ministro della difesa si è dimesso a seguito di un'ichiesta giornalistica Dove è stato scientificamente dimostrato Che qualche decina di milioni di dollari equivalenti È stata letteralmente gettata dalla finestra Acquistando delle uniformi militari invernali Che si sono rivelate, oltre che carissime, perfettamente inutili Perché troppo leggere per l'inverno ucraino Ora, se una cosa simile fosse capitata in Russia Si sarebbe fatta giustizia sommaria E il giorno seguente Quel povero giornalista Che ha osato portare avanti un'inchiesta contro il governo Avrebbe avuto certamente un incidente Sarebbe scivolato giù per le scare a rotta di collo con il collo rotto Si sarebbe sentito improvvisamente così tanto in colpa Di aver accusato un ministro innocente Da volersi buttare giù da una finestra minimo minimo posta al quindicesimo piano O magari, mentre tornava alla casa alla sera Avrebbe potuto incontrare un rapinatore Che, vista la faccia da Bipponzo Gli avrebbe piazzato due proiettili in petto Cose che capitano in Russia In Ucraina, invece, molto banalmente Una volta appurato che il ministro ha fatto quanto meno degli errori Se poi ci saranno anche profili di altro tipo Questi verranno gestiti da un tribunale Il ministro si dimette E il suo posto viene lasciato a qualcun altro Che magari è anche più abile Nel gestire un ufficio complicato come quello della difesa Qui potete vedere la lettera di dimissioni Il fatto che magari o probabilmente sia una brava persona Non lo rende automaticamente un buon amministratore o un buon ministro Se poi Zelensky avrà ancora fiducia in lui Capendo che è una brava persona Probabilmente gli darà un incarico più adatto alle sue abilità Magari ce lo ritroveremo come ambasciatore ucraino in Gran Bretagna Insomma, la differenza fra una dittatura come la Russia E l'Ucraina dovrebbe essere evidente E dovrebbe anche essere evidente il motivo per cui gli ucraini Preferiscono diventare e restare come noi europei Piuttosto che russizzarsi I russi e soprattutto i figli di Putin Dovrebbero avere ben poco di cui festeggiare Perché il nuovo ministro per la difesa ucraino È decisamente più tosto e più di polso rispetto al precedente Zelensky avrebbe nominato o comunque ha intenzione di nominare Ruster Omerov Un ragazzone di 41 anni che incidentalmente ha anche un tartaro crimeano E cioè un abitante originario della Crimea I cui antenati sono stati letteralmente deportati dai russi Per poi fare ritorno nella loro patria molto molto più tardi in epoca sovietica Insomma come potete facilmente immaginare la motivazione per recuperare e riprendere e liberare la Crimea a quest'uomo non manca di certo E a proposito di tartari della Crimea Lasciamo che sia una ragazza a spiegarci esattamente qual è la loro situazione I russi spesso dicono che la Crimea è territorio russo Semplicemente perché molti russi vivevano lì E al giorno d'oggi sento ripetere questa storia anche da molti stranieri Sì, è un effetto della propaganda russa Se riescono a ripeterti una bippata per dieci volte senza che nessuno li interrompa e li smentiscano Alla fine molta gente finisce per crederci Ma voi lo sapevate che fino al diciottesimo secolo non c'era un singolo russo che viveva in Crimea? Ecco, uno dei problemi di ragionare come Putin E cioè del voler riavvolgere le lancette dell'orologio Fino a dire questo territorio era nostro E che naturalmente tutti lo possono fare Questa ragazza risale al diciottesimo secolo Ma noi italiani, eredi dell'impero romano Potremmo tornare indietro di qualche migliaio di anni E rivendicare mezza Europa, buona parte del Nord Africa Buona parte del Medio Oriente E perché no, anche dell'Europa orientale e della Russia Avete mai sentito parlare degli abitanti indigeni della Crimea, i Tartari Crimeani? Una volta possedevano uno stato molto noto in Europa E decisamente potente, il Canato di Crimea La Crimea venne annessa dalla Russia per la prima volta nel 1783 Quando ciò avvenne, il 90% della popolazione era composto da Tartari Crimeani Nel 1944 la percentuale di popolazione indigena era scesa letteralmente allo 0% La domanda è, perché la popolazione indigena di Tartari Crimeani è scomparsa dalla Crimea? E' semplice, i russi presero le loro case e li schiavizzarono E li costrinsero a emigrare in altre nazioni E nel 1944 i russi deportarono tutta la popolazione indigena rimanente nell'Asia centrale Noi, i tartari crimeani sopravvissuti, siamo riusciti a tornare in Crimea E anche oggi i russi continuano a eliminarci e a deportarci Semplicemente perché vogliamo vivere liberi in Crimea Io registro questo video per farvi sapere che noi tartari crimeiani appoggiamo l'Ucraina E per farvi sapere che noi tartari crimeiani esistiamo e vogliamo vivere liberamente in Crimea E questa ragazza che ha sì memoria storica del suo popolo ma come lei stessa scrive si trova in esilio Proprio come sua nonna prima di lei Può scrivere sui social e dire tutto questo perché si trova in Europa In Crimea e quindi in territorio occupato dai russi i tartari crimeani vengono arrestati per molto meno Qui per esempio vediamo un tartaro crimeano che è arrestato dalle forze di sicurezza russe Potete notare peraltro che operano non in divisa e con il volto coperto Semplicemente perché ha espresso la sua opinione su quello che pensava del governo russo E a questo punto potreste essere portati a ritenere che zio Vlad ce l'abbia in particolar modo con i tatari crimeani Ma in realtà non è così Lui perseguita in ugual misura tutte le minoranze etniche Infatti anche i ragazzi di Burazia Libera un'organizzazione etnica di buriati è stata giudicata dalla Russia come un agente straniero La loro colpa? Essere buriati ma soprattutto anelare alla pace Insomma in questa guerra ci si sta giocando ben più di qualche chilometro di terreno Si sta decidendo se milioni di persone dovranno vivere sotto il gioco di questo governo russo dittatoriale Oppure se avranno la possibilità di diventare cittadini liberi in uno stato con mille e mila difetti ma democratico Quindi come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate lasciando scritte due righe qui sotto Inoltre se il canale vi piace e lo seguite assiduamente ricordatevi di diventare un Patreon o in alternativa perlomeno iscrivetevi Attivate la campanella per essere informati sulle nuove uscite Condividete il link ai video con gli amici che possono essere interessati e mettete un bel mi piace Per voi sono pochissimi click ma per il canale significano moltissimo Inoltre se non farete tutto questo in un futuro alternativo eventuale certamente remoto Una bellissima ragazza tatara crimeana dopo aver messo gli occhi su di voi Vi scarterà sicuramente perché vi scambierà per filo russi Io come sempre vi ho avvisati poi fate voi Grazie di tutto per tutto e a presto